particolare in quanto è uno spettacolo dove viene rappresentata una nonna che racconta insomma al proprio nipote le emozioni, i sentimenti i sentimenti infatti questo spettacolo si chiama la compagnia dei sentimenti e ognuno di loro interpreta un sentimento che dopo si presenterà comunque vi anticipo che sono la noia, la curiosità, la fantasia, la paura, il coraggio la felicità, la tristezza, l'odio e l'amore diciamo che questi sentimenti non sono tutti i sentimenti che ci sono ci sono molte spaccettature ma questi sono i principali e anche i nonni ci hanno aiutato ad individuarli anche attraverso i sentimenti che hanno segnato maggiormente la loro esperienza di vita quindi tutto questo è nato anche un po' da queste loro, dalle loro esperienze dei loro racconti e dei sentimenti che hanno vissuto maggiormente nel corso della loro vita adesso diamo inizio allo spettacolo e buon divertimento grazie 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 la compagnia dei sentimenti buongiorno angelo mio mi cant Warum it means attesa il tuo arrivo nonna mentre mi aspettai senza far nulla immagino che ci sia stata la noia a testosterone il bambino improvvisamente molto incuriosito la noia e come ha potuto entrA. rivedere nella mia detesta Se fai troppe domande, lei comparirà prima che ti possa raccontare la sua storia. Ecco, sono una noia e dipingo il mondo con colori della media. Non faccio nulla tutto il giorno e barriglio come un cocodrillo. Significando che la latita è una virtù meravigliosa, poi si cominciamo a fare molte domande e spavigliose. La bene, la bene, la entra nella testa, le bruta, le bruta, la pari bruta. Non ha la dis, la dis, la dis, la dis che la noi andrà e non, e non, e non se posta senza bisogna, bisogna, bisogna per pazienza. La salla, la salla, la salla che la fa. E una volta che sarà sbaglita la noia, potrà arrivare la curiosità, che può cancellare la nuova domanda. Eccomi, sono la curiosità, ho sempre dato il pilastro dentro i libri. Io faccio per trovare la risposta alle mie tantissime domande. Ripeto, se ci sono già, perché e come voglio sapere cosa c'è nel mondo e quali sono le nuove scoperte. Ma non c'è nel mondo, ma non c'è nel mondo e quali sono le nuove scoperte. La migliore amica della curiosità è proprio la fantasia. Comincio, sono. E' come sono la fantasia, posso trovare un pollo in un anglofano e nuove in grandi animali. Con me non ci sono più si fa. Ah, non mi ami. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Non c'è nel mondo, ma non c'è nel mondo e quali sono le nuove scoperte. Anche in lingue, ma non c'è nel mondo e quali sono le nuove scoperte. le insegne di stare lassù, e volano, volano, più in alto del sole e ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano lassù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Volare, oh, cantare, oh, ne vu, ne vinto di lui, felice di stare lassù, ne vu, ne vinto di lui, felice di stare lassù con te. Ma i sogni non sono sempre belli, fanno anche paura. Ecco, sono la paura. Amo le notti bue in cui posso danzare e giocare con le ombre. Mi piacciono i temporali e adoro i rumori che creano spavetto. Vattene paura. Noi siamo i coraggiori. No, abbiamo timore di te. Noi siamo il coraggio. Con la nostra forza possiamo superare ostacoli enormi. Con il coraggio si possono vincere le battaglie di tutti i giorni e combattere da veri eroi. Un secondo. 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 Grazie a tutti. 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 tutti. Grazie a tutti. presentiamo i nostri attori. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.